Aaaaaaah Voi ragazzi, sono Larus Eccomi qui su Europa Universalis 4 Con l'Inca Stiamo facendo la Westernization Ce la stiamo creando piuttosto bene Abbiamo 72% Andiamo avanti Allora, stiamo controllando Bene le zone del nord Dopo che abbiamo finito la colonizzazione Eeeemmm Sì, abbiamo Cacao Merida Diamo autonomia ovviamente per portare avanti Il nostro protesto di centralizzazione Del reame E abbiamo un po' di corruzione adesso Che è aumentata così a caso Eeeemmm Va bene, ok Va bene, noi spendiamo un po' di soldi per abbassarla Ovviamente fa male Perché sono tanti soldi Da spendere per la corruzione Come ho già detto, una meccanica che non capisco Credo che l'abbiano fatta giusto Per disincentivare Delle espansioni troppo aggressive Però Ciò nonostante E' una feature abbastanza fastidiosa Vedremo 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 Intanto La British Columbia Mi vuole bene L'alto comando resiste La Westernization E noi ce ne preghiamo Altamente Eeeemmm Stavo anche pensando Successivamente dove posso espandermi Perché posso continuare il processo Di colonizzazione Senza dubbio Però comunque Se riesco ad arrivare Quasi alle tecnologie Eeeemmm Non dico che posso Direttamente attaccare Queste nazioni Perché Tipo la British Columbia Perché effettivamente Andrò contro La 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 grande corona Britannica Però comunque Posso iniziare già A pensare Di attaccare qualcosa C'è un'eruzione Nel febbraio 1600 Un vulcano peruviano Noto come Aia o Putina Ha fatto un'eruzione Esplosiva Eeeem Gli effetti Delle eruzioni Sono sentiti In giro per il mondo Eeeem Ah Dove c'è stata Una carestia Quindi per due anni I prezzi del grano E il vino Saranno abbassati Speriamo Noi abbiamo Noi guadagniamo Tanto alle tasse Quindi non dovremmo Comunque Soffrire così tanto Paghiamo un po' Di tasse Per non perdere Eeeem Stabilità E noi adesso Abbiamo una legittima Sic che però Rasenta Livello culo Ma non è che Possiamo farci tanto Ignoriamo comunque Sempre le richieste Delle persone Perché noi siamo Dei sovrani Eeeem Kayapoya Si vuole ribellare Però tra 83 anni Non è che Sono 83 anni Insomma Non è che Importa E effettivamente Però Manca veramente poco Mi dice che Entro il 1605 Dovrei Terminare il tutto Va bene Ci adori fare Che tra l'altro Credo di essere Una delle uniche Nazioni native Che è riuscita A sopravvivere Bene Senza Troppi problemi È stata una campagna Difficile Ma non così tanto Difficile al momento Penso che Potesse diventare Ancora più difficile Infatti non so Se ce la potevo fare Però Sarà Strani avvenimenti Sarà il fatto Che mi è andato Di fortuna Poi effettivamente Io sono una persona Fortunata Se guardate tutte le mie serie Non so Credo che mi è andato Tanto di culo Però comunque Ce la siamo giustata Anche abbastanza bene Per fortuna Poi abbiamo fatto Gli errori banali Che io li faccio sempre Perché in realtà Sono sempre Larus Però è andata Andata bene Dai No male No male Comunque a me piace Tantissimo Questa Questo modo Della cartina Come è fatto È bellissimo Sì Abbiamo bisogno Adesso di Più Base tax Perché Effettivamente Base production Non ci serve Tanto Enzi Base production Serve veramente poco Non capisco Il significato Della production Perché non ha Tanta importanza E Manpower Adesso siamo In un livello Accettabile Dopo che ci siamo Ci siamo Comunque forzati Abbastanza Poi Vediamo un po' Westernization Continua Perché comunque Zero di potere Diplomatico Ah già Perché io sono A zero Cioè non Non vado avanti Il potere Diplomatico È triste Effettivamente Se ci pensate Però Va bene Ho deciso Io di far così Advisor Resiste Westernization Però Noi ce ne Freghiamo Sempre Uh appena Troppi di uno Ci sono già Tutti i ribelli Che iniziano a dire Ehi Vogliamo qualcosa Facciamo un piccolo Boost Che non ci fa male Poi 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 Qua Sono al 96% Manca Un anno Quindi noi Andiamo avanti Circa di 4% All'anno Ehm Sì Saremo Praticamente pronti Tra pochissimo Che bello Finita Westernization Il difficile È terminato Anche se mi dichiarano Guerra adesso Io dovrei essere Più o meno a posto Che bello Sono effettivamente Emozionato Devo dire Sono emozionato Sono curioso Di vedere Quello che potrebbe Capitare Però comunque Bisogna dire Che gli Inca Effettivamente Rispetto a tutte le altre nazioni Sono in una situazione Un po' più protetta Perché noi a Cusco Partiamo proprio dietro L'Amazzonia E abbiamo completato La Westernization E abbiamo scoperto Tutto il mondo Praticamente Oddio Ok Questo è il mondo Prendiamoci una Cinque minuti Direi cinque minuti Sono più che fattibili Per vedere Cosa succede Nel mondo Qua ci sono ancora Delle nazioni Effettivamente Nel Questa zona C'è il British Mexico Però che non riesce a resistere A quanto pare C'è Haiti Che è indipendente Ed è alleata Con Aragona Aragona Come immaginavo È diventata È diventata La nazione più importante Nella penisola iberica Oh Lo stato della chiesa È diventato Alquanto potente Nel sud della Francia La Savoia È grossa Ferrara Non è male L'Austria È l'Austria La Bohemia Si è ingrandita Il Commonwealth È enorme Bukhara È grosso Abbastanza Gli Ottomani Sono grossi Abbastanza Nella norma Teodoro Oi Teodoro Come 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 Teodoro Per chi non lo sapesse È una nazione Che parte Esclusivamente qui Circondata dal Canato di Crimea E da Genova Genova ricordo Che fa parte Del Sacro Romano Impero E sono sopravvissuti E si sono espansi Così tanto Bravi Niente male Sono alleati Con la russa Trebisonda Trebisonda Sopravvive Ancora Ehm I timuridi Sono collassati Ma è Normale La Cina Si è spezzettata In tante parti Il Giappone È suddiviso In due parti Praticamente uguali La Corea È grossa È grossa Forse È la nazione Più potente In Asia A Yutai A Yutai A Yutai A Yutai A normale Il Kong È così grande Davvero Non immaginavo Il Mali È grande Ed è fatto Westernization Il Mali Quindi dovremmo Per attenzione Al Mali Anche Fulo Eh Diverse nazioni Dell'Africa Hanno completato La Westernization Cosa interessante Che il Marocco Il Marocco ha completato Westernization Sì Ragusa è grande Madoso è grande La Francia è strana Strana Ha Tutta una composizione Particolare Gaeldo Gaeldo Cavole Questa nazione Gaeldo Alla bandiera Della Scozia Però è strana Vezze Norvegia Sono normali Insomma Nulla di che Ebbene Abbiamo grandi possibilità Dovremmo fare attenzione Per le nazioni africane Perché anche loro Hanno buone possibilità Del resto Qui Non credo Che abbiano Completato Westernization Non credo proprio Fantastico Ok La Cina In una situazione Piuttosto Particolare Poi ci sono Diverse nazioni Mahayane Davvero La Cina È uno scenario Interessante E magari Se sfruttiamo Bene La colonizzazione Possiamo direttamente Arrivare in Asia Ok Prima cosa da fare Subito Andare avanti Con le tecnologie Dove possiamo Qua ovviamente Abbiamo problemi Perché Abbiamo Ancora Della fanteria Che fa un po' schifo Archibugieri O Facciamo difensivi Perché noi Ci conviene Combattere in difesa Saluto American Cavalry Pedrero O Culverin Direi siccome Noi abbiamo shock Principalmente Come generali Mettiamo Generali con shock Guadagniamo tanto Tanto E direi Prima cosa Faccio un forte qua Seconda cosa Inizio A Fare dei docs Dei porti Un po' in giro Mancano soldi Però Vedremo un attimo Cosa fare Poi Seconda cosa Che voglio fare Pago le mie truppe Senza Dubbio Posso Recrutare Altri Soldati Facciamo un template Di un'armata Facciamo così 8 2 Anzi Quanti ne ho A disposizione Facciamo così Anzi Ah non ho abbastanza soldi Però aspettiamo Io voglio fare Tanti cannoni Che mi serviranno Iniziamo a fare Dichiarare Praticamente Guerra Mandiamo le truppe Ah e tra l'altro Dovrei anche Fare una cosa interessante Vabbè potrei fare esplorazione Pior esplorazione Qua conosco già tutto Dovrei iniziare a fare Proprio esplorazione navale Adesso Mettiamo focus Alle tecnologie Diplomatiche Che ne abbiamo bisogno E possiamo selezionare i rivali Gran Bretagna E appunto Iniziamo a vedere un po' Cosa si può fare I nemici della Gran Bretagna Sono Aragona Danimarca E Francia Allora La Francia Ha qualcosa qui L'Aragona Non credo che Abbia colonizzato Ancora niente Quindi Ci conviene Per interesse Iniziare un po' A farci amica Aragona Perché può picchiare La Francia E l'Inghilterra Che sono Effettivamente I nostri potenziali rivali Ho le truppe pronte Sono le truppe pronte Direi Non aspettiamo altro E distruggiamo le armate Perfetto E abbiamo distrutto tutto A posto così Mettiamo tutto assieme Separiamo E andiamo avanti La nostra conquista Procede Senza tregua Noi siamo diventati Una nazione Potente Senza se E senza ma Poi Abbiamo vinto qui La colonia è diventata Autosufficiente Possiamo fare un nuovo staterello E vediamo qua Che cosa c'è Una cosa che si potrebbe fare Che direi che ha senso Ho detto che queste province qua Sono tutte inutili È vero Sono estremamente inutili Però C'è la possibilità di bloccare Un bel po' Di coloni Sia colonizzando questa zona Che una zona libra E sia colonizzando questa zona Che un'altra zona libra Dividiamo metà le armate Una qui E una qui E inizieremo a colonizzare in giro Possiamo fare un core qua E appena finisco la guerra Non sto già facendo la fortezza Bene Inizierò comunque anche a fare altre Altre operazioni un po' in giro Perdiamo prestigio E ok Ho completato la conquista Qua facciamo full annexation Senza Senza problemi Prendiamo soldi Tutti i soldi che ci possono dare E abbiamo completato anche qui Una bella conquista Abbiamo una fortezza qua Che io tolgo Distruggo Perché è inutile In questa provincia E apposto così Ora Che abbiamo finito la guerra La war distortion Aspettiamo che si abbassi ancora un attimo The coastal people Mmm Le persone della costa di Cimo Sono una delle Più vecchie culture Delle ande Possiamo integrare la cultura Che così abbassiamo il costo delle tecnologie E aumentiamo però il costo della stabilità Oppure fregarcene Direi il costo della tecnologia abbassato fino alla fine del gioco mi piace Quindi integriamo le culture Adesso però la scritta inca è brutta È scritto inca Così Inca È brutta la scritta Sembra dolorante Allora ci sono le zone della plata che Sembrano piuttosto ricche Cioè mi pare che fossero ricche Ma l'altro sono povere Strano Dovrebbero essere ricche E le folkland Ci sono i portoghesi Aia Vedo uno scontro diplomatico Tanto di sailors Ne abbiamo Abbastanza Cioè abbastanza pochi E vediamo adesso di Fare una bella cosa Spammiamo Ovunque Nei porti Facciamo porti in giro Per i nostri sailors Costano tanto Prova i doc E non scherzano Ah c'è la festa del sole Perfetto Prendiamo un prestigio Haiti è anche un'azione Che è tra l'altro la nostra Haiti Dovremmo fare un po' attenzione Perché possono diventare potenti Mogadiscio Hanno finito i conflitti interni Ah c'è La Gran Bretagna Che sta picchiando Tutte le nazioni Del centro America Ok Perfetto Perfetto A Puerto Caregno Abbiamo Poi si chiama Puerto Carreno O Carregno Non so come si pronuncia Però comunque Non ha un porto Le cose strane Si chiama Porto Caregno Non ha un porto Va bene Facciamo dei porti A Cartagena Nord Che ci serviranno Dopo Dopo dovremmo anche trovare Delle zone commerciali Tipo Ah si dovremmo anche vedere La situazione del commercio Qua Mandiamo Uno A caso Tipo da Quiaba Che qua C'è tanto C'è tanto da guadagnare In commercio Possiamo guadagnare Tanto Che trasferiscono Tutto il commercio Via Anzi Spesso lo fa Haiti Infatti dovremmo fare Un po' Attenzione Magari dovremmo Prendere i Caraibi Perché come ben sappiamo Sono una provincia C'è una regione Piuttosto ricca Dal punto di vista Commerciale Quindi potremmo fare Delle imprese Naturalmente Sono distanti Dovremmo tipo Prendere Queste provincie qui Fare hop In Giammaica E poi hop Qua Sarà tosto Matchlock Musket Va bene E continuiamo Ad andare avanti così Commercio Direi Concentriamo Nella zona di Panama Che è questa Quindi facciamo Delle zone commerciali Qui A Bogota Perfetto Poi appena avremo Un po' di sailor Inizieremo a Fare Delle navi I navi Non so nemmeno Quali posso fare Però vedremo Mettiamo l'autonomia Intanto non importa Ah posso anche fare La weapon manufactory Dove c'è il ferro Ah ci sta Ci sta Ok Dagnato Dei core province E qua Facciamo un altro porto Che io voglio fare Porti ovunque Voglio diventare Principalmente Una nazione navale Ok Abbassiamo l'autonomia Dappertutto Ed è finito anche Il tempo Per questa puntata Allora Votate Commentate Ci sentiamo La prossima Siamo diventati Occidentali E abbiamo Un occhio sul mondo Alla prossima